C'è la possibilità di andare in contropiede, attenzione, è una buona occasione, 34esimo minuto Palla sulla sinistra, adesso Beppe, che lo mette in mezzo 1 a 0, 1 a 0 per i ragazzi, 1 a 0 1 a 0, Beppe le voci, la mette in mezzo Sampata l'intervento 1 a 0 per i ragazzi, 1 a 0 per i ragazzi, 1 a 0 per i ragazzi L'ha messo al piazzone, 1 a 0 per i ragazzi, Simone Canse, è lui che l'ha messo dentro 1 a 0, ha segnato, il numero 11, Simone Andrea Canse